Il 2014 per l'Ateneo Aquilano è stato l'anno dell'effettiva attuazione delle linee strategiche approvato dall'Ateneo e dal MIUR. Per questo l'Ateneo Aquilano ha inteso avviare una riflessione critica anche con la comunità locale, un processo culminato con la conferenza pubblica su università e sviluppo locale. Per la rettrice lo stato di attuazione è buono. Siamo, diciamo, direi in una buona direzione, nel senso che abbiamo messo in cantiere un po' di progetti e oggi infatti volevamo fondamentalmente parlare di poche cose concrete per capire esattamente che cosa si sta facendo e avere una misura di quanto possiamo ancora fare. L'università dovrebbe, per la rettrice Paola Enverardi, rivestire un ruolo chiave nello sviluppo della città dell'Aquila e forte dei suoi 20.000 studenti, resta a disposizione con le sue intelligenze per la ricostruzione aquilana. Evidentemente noi abbiamo un patrimonio di risorse umane su cui contare enorme, che non si esaurisce nei mille dipendenti, ma soprattutto nei 23.000 studenti che rappresentano un'enorme risorsa intellettuale che questa città può utilizzare per crescere e per costruire un nuovo modo, una nuova versione di città universitaria. Grazie. Grazie.